Buongiorno ragazzi, bentornati al nostro consueto appuntamento con gli aggiornamenti dal mondo della psicologia internazionale. In particolare continuiamo con la rassegna stampa di alcuni articoli di Psychology Today, apparsi sul portale di Psychology Today, che attualmente è uno dei portali più aggiornati sulle ricerche più interessanti dal mondo della psicologia. L'articolo che stiamo per citare è ultra interessante perché va verso quelle tecniche di crescita personale che abbiamo raccontato per anni su Psynel, sul mio blog ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ci sono centinaia di articoli, ci sono delle tecniche specifiche che alla fine del video magari ti citerò in modo che tu possa andarle a cercare e sono tutte rivolte all'utilizzo dell'immaginazione, delle immagini mentali. La famosa visualizzazione, potremmo chiamarla così, questa branca, diciamo così, della tecnica di cambiamento della psicologia. In particolare l'articolo di cui parliamo oggi è stato scritto da Christopher Bergland, non è il primo articolo che citiamo di Christopher ed è stato pubblicato il 13 dicembre 2018. Il titolo è questo, perdonatemi come sempre per il mio pessimo accento inglese, però il titolo è così, How Vivid Imagination Can Help People Unlearn Fear, che significa come l'immaginazione vivida può aiutare le persone a disimparare le paure. Come probabilmente saprai, le paure, secondo le teorie delle scienze cognitive, non sono altro che apprendimenti e questo è un'ottima notizia perché se qualcosa l'hai imparata significa che puoi anche disimpararla, anche se non è così facile. Vuoi una prova? Disimpara a leggere, dai, disimpara a leggere così magari la persona che guardi un bel foglio non capisci quello che c'è scritto. A parte questa piccola digressione però stiamo attenti perché è davvero un po' così. La cosa interessantissima però è che qua c'è un primo studio scientifico fatto con una risonanza magnetica che dimostra l'effetto della immaginazione e della visualizzazione vivida e di come questa possa realmente modificare i nostri pattern neuronali e quindi aiutarci a disimparare una paura. In particolare l'autore parte con una disamina del fatto che abbiamo tutti quanti un sacco di fobie, un sacco di ansie e poi cita lo studio principe o meglio il concetto principe di ogni forma moderna di psicoterapia, della maggior parte delle forme moderne di psicoterapia che si chiama esposizione. Che cos'è l'esposizione? È qualcosa che tu intuisci naturalmente. Se un tuo amico ti dicesse guarda che un cane quando ero piccolo mi ha morso e oggi ho paura dei cani come faresti ad aiutarlo ad uscire da questa paura? Prova a pensarci un attimo. Prova a pensare un attimo come faresti? Se anche tu sia un mio collega o meno è molto probabile che ti sia venuto in mente di iniziare a esporre il tuo amico a cani innocenti. Magari gli fai vedere prima dei video con dei cani dove magari ci sono dei bambini che giocano con dei cani o magari se ha tanta paura magari un pupazzo di un cane lo fai giocare col pupazzo, poi gli fai vedere dei video di cani, poi magari lo porti fuori e lo fai avvicinare piano piano ad un cane molto piccolo e via via così per passaggi graduali fino a che a furia di esporlo al cane, cioè all'oggetto di cui aveva paura, piano piano si desensibilizza o come dice l'autore qua disimpara la paura. Ovviamente ti ripeto non è così semplice come lo sta raccontando lui però lo studio che c'è al suo interno è davvero molto interessante ed è stato fatto dal Wager Lab nell'università del Colorado dove hanno dimostrato che praticamente l'esposizione attraverso l'immaginazione vivida ha gli stessi identici effetti di un'esposizione dal vivo. Per tutti coloro i quali siano rimasti indietro negli anni 70 diranno eh vabbè Jenna ma sta roba qua lo diciamo da anni che non c'è differenza per il cervello tra ciò che immagini e ciò che vivi veramente. Questa però ragazzi era una frasetta che dicevamo per rafforzare la convinzione che le cose stessero così ma le prove scientifiche non c'erano, non c'erano ragazzi. Lo so, lo so che l'esperienza ci porta più avanti della scienza, a volte la scienza arriva dopo però io da, come possiamo dire, da ricercatore, da appassionato della materia mi affido tantissimo anche alla ricerca perché da solo per quanto io abbia aiutato tantissime persone con esercizi e giochi di immaginazione durante la mia breve carriera da psicoterapeuta posso assicurarti che il dubbio c'è sempre. Il dubbio c'è sempre, non è che questa roba qua è solo stata scritta su un libro e in realtà non funziona così bene. Nel mio caso il dubbio è attenuato perché io l'ho fatto su me stesso, l'ho raccontato su Psynel molte volte, quando ero un ragazzino avevo paura dei petardi, avevo paura dei fuochi d'artificio e così mi sono desensibilizzato attraverso un esercizio di PNL che puoi trovare su Psynel. Se vieni su Psynel oppure vai su Google e scrivi cura veloce delle fobie Psynel troverai un breve esercizio di immaginazione che ti aiuta a modificare, diciamo così, i ricordi del passato, modificare tra virgolette attraverso dei compiti di immaginazione e questo ti aiuta a desensibilizzarti dalle paure, a disimparare. Ma ricordati l'esempio che ti ho fatto all'inizio, esistono degli automatismi appresi anche precedentemente come ad esempio la lettura che non sono così semplici da disarcionare, con questo non voglio fare il pessimista ma solo dirti che non è che se ti metti lì e fai quattro giochini di immaginazione riesci a superare quell'evento, questo ti aiuta ad esporti ed esattamente come nell'esposizione dovrai gradualmente esporti sempre di più a quell'evento e se è qualcosa di reale poi dovrai affrontarlo nella realtà. Tutto questo non c'è nell'articolo però te lo aggiungo io visto che sono anni che discutiamo di queste ricerche. Praticamente i ricercatori dicono di prendere l'immagine del passato, modificarla, qua non sono espliciti nel dirti come modificarla e poi rimetterla all'interno dei ricordi. Quindi questo funziona in virtù del processo emotivo o meglio del processo di apprendimento perché quando tu impari qualcosa in realtà questo qualcosa non è che lo metti in un cassetto come abbiamo visto anche negli esperimenti della Loftus sui falsi ricordi, in realtà tu quando lo richiami questo ricordo lo vai a prendere a pezzettini dal tuo passato e questi pezzettini in realtà sono una nuova ricostruzione di quel ricordo e se tu ci lavori sopra, cioè ci ripensi, lo rivivi visualizzandolo, in realtà in quel momento stai già modificando la traccia del passato. Quindi semplicemente ti invito ad andare a guardare l'articolo che non dice più di quello che ti ho già detto io, tra virgolette, però se vuoi avere tutti i riferimenti neuroscientifici su quali sono le aree, quali sono le sostanze chimiche che vengono secrete durante questo evento vatti a guardare l'articolo, ma la cosa più importante è sapere che la nostra immaginazione ha un potente potere su quello che viviamo e su quello che impariamo. Dobbiamo imparare ad utilizzarla in modo potremmo dire consapevole perché nella maggior parte dei casi la visualizzazione è rapidissima e inconsapevole, cioè quando uno parte con un sacco di seghe mentali su quello che dovrà fare nel futuro queste visualizzazioni sono rapidissime, ma stiamo attenti, dobbiamo evitare di fare come dicono i PNListi degli anni 80, cioè di stare attenti ad ogni immagine mentale che ci viene in mente, ad ogni parola che ci viene in mente, perché questo diventa un controllo sulla nostra mente che peggiora le cose, perché dobbiamo sempre ricordarci che il controllo ci controlla, o meglio non possiamo avere un controllo diretto sui nostri pensieri, possiamo però sviluppare la metacognizione necessaria che ci aiuti a capire quali sono queste immagini mentali che ancora ci danno fastidio e imparare a lavorarci sopra magari con qualche esercizio di visualizzazione, ti ripeto vai su Psynel, scrivi paura rapida, cura rapida delle fobie oppure scrivi visualizzazione troverai decine di articoli con decine di tecniche, anche con i miei audio che ti guidano al superamento di fobie attraverso l'immaginazione, per cui fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere magari una tua esperienza se per caso l'hai provato, condividi questo video, metti mi piace, commenta eccetera eccetera, ciao, buona giornata.